Chiederei, anche corta, una poesia romanesca. Corta, corta, la più corta che sa. A.U. A.U. è il titolo? No, è tutta la poesia. Ah, così, la poesia più veloce del mondo. Va bene, adesso possiamo giocare al gioco del vero o falso. Ah, subito, evitiamo la falso. Ricordo chi vuole partecipare. Il numero di telefono per partecipare al gioco del vero o falso è 02831376. Ripeto, 06814459. Allora, prima domanda, il gioco del vero o falso. Una domanda storica, classica, eccetera. Eccetera. La Maremma è una famosa maiala? Vero o falso? Falso. Ah, falso? Ma è vero. È vero, è vero, è vero.